Ciao ragazze, come state? Ciao ragazze, come state? Mi chiamo Mariadina, sono greca e abito qui a Salonico Informazioni per me Ho 30 anni, lavoro come estetista Il mio canale al Youtube Zinnaguti Potete guardare trucchi diversi Consigli di Belenja, eccetera Informazioni per me Il mio tempo libero mi piace ascoltare musica Di solito, certamente, Candi Grezzi, Candi Daiani Mi piace ascoltare molti cantanti come Eros Ramaggiotti Per me è più romantico, Cadande Cadande è più romantico Giuseppe Erri Tiziano Ferro Andrea Boccelli Per me ha molto, molto, molto e grande voce Sakira, Lopez, Talia, eccetera Mi piacciono molti attori come Signore Beninni e Signora Monica Belluzzi Monica Belluzzi Monica Belluzzi per me è più bella donna del mondo Mi piace molto, molto ballare Mi piace molto ballare Di solito orientali Ma mi piace generalmente il danza Il mio segno è bilancia Il mio carattere Sono gentile Sono gentile Dolce Sono molto, molto, molto sociale Ma purtroppo sono indecisa Molto, molto indecisa E anellamente Molto anellamente Mi piace Mi piace Il mio tempo libero E fare di ginnastica Di solito Young Perché? Perché mi calma molto E aiuta Al mio corpo Amo molto i miei gentili Mia sorella Mia sorella Molto, molto cara Molto, molto cara Mi piace Mi piace cucinare E invitare E invitare A mia casa I miei cucini I miei amici Eccetera Amo molto i fiori Amo molto gli animali Di solito I cani Perché? Un cane E' molto, molto, molto fendere Mi piacciono molto i bambini Non sono ancora sposata Ma Vorrei Ma Quando Sposarei E Vorrei Fare Una grande Una grande famiglia Ehm Con Con Tre bambini Ehm Allora Ehm Voglio Eserci Al mia vita Ehm Amici Ma Sempre Ehm Ma Sempre Scusatemi Ma Sempre Siete Amici Siete Ma Sempre Siete Ehm Non mi piacciono i falsi Perché Ehm Se Quando Ascolto Falsi Ehm Sono Nevrosa Molto Nevrosa Ehm Molto Mi piacciono Molto I Pianzi Molto 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 Ehm Ma Non posso Ma 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 Questa Periovo Non posso Viaggiare Perché C'è Ehm C'è 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 per me attenzione ricordare sempre e rendere arrivederci arrivederci bacioni a tutti bacioni a tutti ciao ciao ciao